buongiorno sono Riccardo di FBAbike.it oggi è un giorno particolare perché vi faccio vedere le bike la mia e-bike montata vi ricordo il progetto di spesa massima per la mia e-bike da enduro di 4.500 euro e il secondo vincolo di restare sotto i 25 kg di peso oggi vi farò vedere e vi illustrerò tutti gli accessori complementari al montaggio dei componenti che vi ho presentato nei video precedenti quindi cerchi forcelle è servito una serie di accessori che vi vado a illustrare e vi lascerò il link in descrizione per poter verificare i prezzi che le ho pagati seguite il video e vedete cosa ho scelto per la mia e-bike ecco qua la nostra e-mountain bike da enduro completata andiamo però oggi ad analizzare i vari elementi che fino ad oggi non vi ho presentato ma che sono fondamentali per completare il montaggio dell'e-bike partiamo dalla parte anteriore ovvero per poter montare la nostra forcella liric abbiamo inserito una serie sterzo serie sterzo della zitto con cuscinetto chiuso sopra e sotto e intercambiabile questa serie sterzo non ho mai non l'ho mai utilizzata me l'ha consigliata un amico e visto il prezzo e la qualità ho deciso di acquistare anche l'attacco manubrio quindi vediamo ai prezzi questa serie sterzo completa di due cuscinetti è stata pagata 12,78 euro un prezzo incredibile per una serie sterzo completa con due cuscinetti mentre l'attacco manubrio in lega d'alluminio ricavata dal pieno sempre della zitto che è questo molto interessante anche questa è la prima volta che l'utilizzo è interessante perché in qualsiasi momento togliendo questo anello di colore rosso tra virgolette io l'avevo ordinato rosso ma è più arancione che rosso purtroppo è intercambiabile ovvero si può togliere quando sa la necessità di inserire un manubrio con attacco da 35 mm mentre come in questo caso l'attacco è 31,8 inserendo questo spessore in Ergal è possibile utilizzarlo per un manubrio con attacco da 31,8 questo attacco manubrio ripeto molto leggero molto ben fatto della zitto ricavato dal pieno vi metto il link in descrizione l'abbiamo pagato 16,45 euro a completare la la nostra soluzione sull'anteriore è il manubrio manubrio molto importante abbiamo scelto un descendant in alluminio di larghezza 760 mm il descendant della turavit è un manubrio che io ho già utilizzato nella sempione team molto ben fatto nella nostra ebike ci sta molto bene perché la scritta descendant va a riprendere le varie rifiniture bianche come il cavo che ho messo io ma come anche le rifiniture bianche presenti sul telaio così come la parte diciamo di grigio perché oltre al bianco il manubrio presenta questo grigio va a riprendere il grigio del telaio e il grigio nelle varie scritte questo manubrio come dicevo ha una larghezza di 760 mm e un ris da 20 mm pagato 49 euro vi metto il link in descrizione volendo spendere qualcosa di più sui 100 euro si può trovare anche manubri in carbonio però noi ci siamo dati un budget e con il manubrio in carbonio di buona qualità rimanevamo fuori dal budget preventivato quindi abbiamo scelto questo descendant molto molto bello e però in alluminio ci penalizzerà un po sul peso manopole classiche manopole in gomma con bloccaggio tramite l'anellino pagate veramente poco 12 euro per quanto riguarda la parte anteriore questi sono i componenti veniamo al reggisella reggisella telescopico della ks escursione 125 mm diametro 30.9 cavo integrato con la leva sul manubrio molto comoda come vedete il comando è proprio alla portata di pollice sia del display che del reggisella che è un prodotto testato lombardo le usa su tutte le sue e bike full suspension mi è piaciuto anche per il prezzo perché l'abbiamo acquistato dal lombardo direttamente e l'abbiamo pagato 149 euro di questo non vi posso mettere il link perché l'ho comprato direttamente dal lombardo se siete interessati ad acquistare un prodotto di questo tipo mi potete contattare altro piccolo accessorio il reggisella della xlc in ergal di colore rosso che va a riprendere il rosso in ergal dei paracuscinetti e va a riprendere anche il rosso del nostro pacco pignoni la spesa è veramente minima perché l'abbiamo pagato 7 euro a completare abbiamo la sella italia x3 nero rossa anche essa riprende le finiture rosse presenti sul telaio questo sedile della sella italia quindi un prodotto italiano l'abbiamo pagato 26 euro e 90 altro accessorio dischi dei freni so che questo non è un vero e proprio accessorio in quanto fa parte dell'impianto frenante quindi andava presentato insieme alla scelta dei freni però in quel momento non ero ancora sicuro di poter acquistare questo prodotto perché pensavo di andare un po' fuori budget questo è un disco high stack della shimano veramente bello rt76 la particolarità di questo disco del freno abbiamo a parte il diametro di 203 mm il disco high stack è costituito da questa parte nera in alluminio e la parte frenante è acciaio sulla parte esterna e alluminio sulla parte interna così facendo abbiamo un ottimo dissipamento del calore e quindi abbinato ai suoi freni shimano slx abbiamo veramente una frenata ottimale ed un peso estremamente ridotto questo che vedete qui è il sensore del motore bosch quindi il sensore 2021 posto sul sul disco del freno i dischi per i freni sono da 203 mm sia all'anteriore che al posteriore e l'abbiamo pagati insieme all'attacco scusate all'adattatore sia davanti che dietro 90 euro è una spesa un po' importante per i dischi dei freni però i freni sono importanti su una bici da enduro e ho deciso di mettere tutto un impianto shimano completo anche dei suoi dischi al top faccio vedere anche la parte anteriore quindi ripeto anteriore e posteriore compreso di attacchi di adattatori per le pinze 90 euro ho lasciato per ultimo i pneumatici i pneumatici sono della Vittoria Martello di sezione 29x2.6 quindi un 29 plus non è la più leggera ma sicuramente è una gomma difficile da forare la bandella grigia va a riprendere il grigio presente su tutto il resto della bici abbiamo battezzato la mia e-bike FB Bike Edition guardate come sono stati passati i cavi cercando di ridurre al minimo la loro lunghezza e disponendoli in modo che il manubrio in posizione statica rimanga dritto abbiamo finito la nostra bike è montata nel prossimo video dobbiamo verificare il peso il prezzo totale e un piccolo test per verificare che il nostro prodotto sia un prodotto veramente al top di gamma ci tengo a ricordarvi una cosa che non ho detto inizialmente avevo previsto il display della Purion che ha un costo relativamente inferiore al display che ho utilizzato ovvero il Kiox il Purion costa circa 100 euro il Kiox l'abbiamo pagato 231 euro ho fatto questa scelta perché il Kiox a me piace molto in quanto ha il navigatore e quindi per completare un enduro top di gamma un navigatore di queste dimensioni mi sembrava doveroso inserirlo in un contesto di questo genere vedremo se siamo rientrati nei 4500 euro devo fare le somme e andremo poi a pesarla spero che questo video vi sia piaciuto un saluto a presto da Riccardo ciao